Diego Allegretti, 28 gol in 51 partiti di campionato con la Vibonese. Il prossimo domenica? Si spera di sì, si spera che domenica sia il prossimo e che sia un gol importante per me e per la squadra. Dalla domenica la doppietta l'hai dedicata a chi? L'hai dedicata alla squadra e l'hai dedicata alla mia famiglia che mi è sempre stata vicina. Tra questi gol quali ricordi con particolare piacere? Quello con l'Isola Capolizzo in finale di playoff. Grazie a tutti.